Ricordo! E' Peppino! E' Peppino! Oh che disgrazie! Ma' non c'è... Non è riconosciuto! Ho visto che vedete lo schiavo! La storia la deve crescere! E' la febio! E' la fermetta! E' la fermetta! C'è la posta di noi... C'è la posta di assoluta! Ahahahahahahahahah! Che cosa faccio con la palla di morta? Si, si, il tersino... E' poi che credevamo sempre alla cazzura! Faccio la palina! Se vengono un pezzo! Andiamo a che non fuori a quella venda! Quando è bello! Bene, veramente, ci vuoi piacere veramente! auguri eh grazie che errore maledetta chi cazzo lo conosce?